Sono tutte forme musicali di business dal basso, cioè di auto-organizzazione, e rappresentano un po' un anticipo di quello che poi avverrà nel rock alla fine degli anni 70, e andremo a vedere come funziona questo computer, è un errore, verificato un errore, forse è meglio se lo copiamo sul disco, sta sulla pennetta. Sì, senza titolo. Apri questa cartella, prendiamo il pdf, questo. La tecnologia non è che è sempre della nostra, invece i tamburi sì, quindi i tamburi sono meglio della tecnologia. Detto questo, chiudiamo l'assemblea, abbiamo detto quello che dovevamo dire. Ho inconsapevolmente citato il saggio. Oh, finalmente è una bella immagine. Yeah. Quindi che succede? Che questa cultura, ad essere un fenomeno prettamente underground, in occidente incontra il mainstream musicale e lo conquista. E quindi i media cominciano a cimentarsi, a misurarsi con questa cultura totalmente nuova da comunicare, con troppe peculiarità, troppe differenze rispetto a quello che era l'industria discografica, il mercato musicale, eccetera, che proprio negli anni 70 stava arrivando a livelli assurdi, assurdi, di business molto molto sviluppati, essenzialmente con le grandi star del rock, eccetera. Attraverso Bonmarli si riesce a rompere questo muro di ignoranza e quindi Bonmarli riesce ad imporsi proprio nei media internazionali, anche con delle operazioni di marketing, tipo quella di individuare come target, non quello africano, giameicano, ma il target per esempio del rock, proprio del rock. Grazie alle caratteristiche di musica alternativa, di messaggi rivoluzionari, dell'uso della marijuana, tutte cose che erano molto molto appetibili per l'immaginario del pubblico dei giovani bianchi occidentali che seguivano il rock. Ecco questa operazione, per esempio, rivista High Times inglese e californiana, chi ha gestito il marketing di Bonmarli per imporsi nel mercato saturitense, per esempio ha individuato questa rivista come un veicolo utile, le è stata commissionata questa copertina a cui Bonmarli si è prestato con molto piacere a dedicare dalla fotografia. Sì. Anche quella, la situazione proprio di giameicana comincia ad essere, ad attirare l'attenzione del mondo del rock. Quindi questa cosa straordinaria che studi di suografici nati nei ghetti più poveri e peggiori del mondo diventano un punto di riferimento per esempio per Paul McCartney o per altri grandi star che volano in Giamaica, dei loro studi dorati arrivano nel pieno del ghetto, per esempio questo è il Black Ark Studio di Li Perry, a registrare. Poi che succede? Che poi alla fine degli anni settanta probabilmente anche questa cosa qua del reggae diventa un'attitudine che è stata poi ripresa in questa grande rivoluzione, grande fenomeno culturale che è stata l'esplosione del punk che ha significato essenzialmente un protagonismo dal basso, degli artisti, dei giovani che cominciano a imporre questa estetica, questo concetto del do it yourself. Nasce in Inghilterra la discografia indipendente che comincia un processo storico che la porterà ad avere pari importanza quello delle major. Questo porta anche spazi nuovi per il reggae nei media come controcultura. Quindi non più bommarli soltanto, ma in un certo senso tutto l'immaginario, tutta la cultura del reggae trova nuovi spazi all'interno di questa nuova situazione sociale, culturale. Questa per esempio è una fanzine, una delle più note classiche fanzine punk e qui vediamo la nascita di questa forma di editoria indipendente che è quella delle fanzine. che vede questo protagonismo dal basso, quindi non solo nella musica, non solo nella discografia, anche nell'informazione. Poi ci saranno anche le radio pirata successivamente, eccetera. questo è una novità anche, questo andrà a influenzare profondamente tante cose della cultura internazionale, la grafica, non c'erano ancora i computer, questo è ancora diciamo una grafica basata sull'utilizzo di pennarelli, il fotomontaggio, per esempio vengono anche ripresi certi concetti del dadaismo, delle macchine da scrivere, trasferibili, tutte cose che la gente della mia generazione ha conosciuto, che ora si usano un po' di meno. Anche nel reggae cominciano a, comincia a, oltre alla situazione dei sound, dei musicisti, eccetera, a svilupparsi dei fenomeni di editoria dal basso, e quindi di fanzine che prendono l'esempio proprio dal mondo del punk, del rock. Small X è una fanzine inglese molto importante, è stata molto importante fra la seconda metà dell'anno 70, all'inizio dell'anno 80, diretta da Ray Oxford, che è un grande appassionato di musica, un grande fan, che appunto sopperisce a tutti quei limiti culturali dei grossi media, del rock, che si limitavano a trattare, spesso anche male, soltanto il fenomeno di bombarde, non riuscivano ad andare ad approfondire quello che invece era un mondo immenso. Poi ci sono, a livello internazionale, nascono tutta una serie di riviste, che vanno anche un po' oltre quello della fanzine. Ci sono, durante la fine degli anni 70, un po' riviste specializzate in diverse parti del mondo, questo per esempio è un reggae quartier canadese, ed è stato lo sviluppo successivo di quello che era prima una fanzine tipo Small X, che si chiamava Live Good Today, ed era dedicata solo ad Augustus Pablo. Beth Lesser e Dave Kingston, gli autori di Reggae Quartier, poi con questa rivista, hanno documentato in tempo reale, con frequenti viaggi in Giamaica, tutto quello che succedeva fra la fine dei 70 all'inizio dell'80, quindi proprio la nascita del Dance of Style, poi successivamente King Jammy, ci sono recentemente dei, sono stati pubblicati dei libri molto belli di fotografia, con le immagini di Beth Lesser, che erano contenuti in queste riviste fantastiche, che erano veramente incredibili, soprattutto dal punto di vista fotografico. Questo invece, Black Ecos, settimanale di riferimento in Inghilterra, per la black music in generale, diventò un punto di riferimento importantissimo per il mercato del reggae, perché era, diciamo, una delle poche occasioni di trovare in edicola informazioni dal di dentro della scena, quindi le dance dei sound, eccetera, potete trovare soltanto su Black Ecos, le recensioni dei singoli, di John Masuri, quindi un fenomeno questa volta non underground, ma ufficiale. Arriviamo in Italia, perché in Italia, alla fine degli anni 70, c'è un'operazione di marketing, della Ricordi, che aveva preso in licenza il catalogo di Highland Virgin, il più grosso e maggior della reggae music, e aveva lanciato Juan Marley. Che succede? Che c'è nel 1980, quindi, diciamo, sui media italiani, alla televisione, sulle grosse riviste musicali, si comincia a parlare di reggae. Fino al 1980, in cui Bon Marley arriva a San Siro, e fa il concerto più grande della storia di Bon Marley. Quello di San Siro è il più grosso concerto mai realizzato da Bon Marley. Ed è, probabilmente, può essere considerato come la nascita della scena reggae italiana. Per una serie di ragioni molto importanti, perché si vede in quell'occasione la nascita di un nuovo tessuto sociale, di una nuova base sociale e culturale, che poi sarà quella su cui si svilupperà la scena reggae italiana, e che è importante, soprattutto perché viene nel 1980, dopo una stagione, quella degli anni 70, di grossi movimenti politici, antagonisti, culturali, contro cultura, che si era dissolta negli anni precedenti. La figura di Bon Marley riesce a catalizzare tutta una serie di persone che avevano, venivano da quell'esperienza, e che si erano perse, e che si ritrovano nel senio del reggae, della cultura del reggae, insieme a tante altre, insieme a nuove generazioni, e quindi nasce una nuova forma di controcultura, che poi, vedremo, si svilupperà in tante forme diverse, attraverso i centri sociali ed altre esperienze. Qua, in mezzo a 80.000 persone che stavano a San Silo, sono andate a beccare proprio l'amico mio, che stava là, di spalle, e si era spogliato perché faceva un caldo incredibile, e avevano azionato le pompe per innaffiare la gente. Potete immaginare la situazione da questa fotografia. Probabilmente uno dei più grossi concerti mai tenuti in Europa. Quindi, diciamo, piano piano cominciano in Italia a filtrare informazioni più approfondite. Giorgio Battaglia su Rockstar, Rockstar era una rivista patinata, mainstream, diciamo, molto diffusa, e quindi era molto importante che apparisse ogni mese questa paginetta, Regganja, tenuta da Giorgio Battaglia, che oggi lavora in Rai, era un giornalista che aveva conosciuto il reggae a Londra, ed era molto, molto addentro alla scena londinese, e scriveva in maniera molto appassionata, molto informata, e se eri uno che voleva conoscere il reggae in Italia a quell'epoca, eri uno che aspettava ogni mese che usciva Rockstar soltanto per la paginetta di Regganja. Così come Gianni Galli, invece, su Rockerilla, rivista meno importante, più, diciamo, basata su rock, che nasce anche da una fanzina, ma comunque era in edicola, ed era una delle più importanti del genere, e scriveva Gianni Galli, di cui parleremo in seguito, era una persona ancora più addentro di Giorgio Battaglia nella nascente scena reggae italiana, che comunque è individuata in questi due personaggi i due primi megafoni all'esterno. Nascono anche in Italia le fanzine, qui vedete appunto queste due fanzine nati a Bari, sull'esempio, vedete, sull'esempio delle fanzine punk, sia quelle inglesi, sia quelle italiane, che il punk comunque in Italia, in quegli anni, era la musica della scena antagonista, della scena alternativa, che si andava formando in quelli che erano nuove occupazioni, nuovi centri sociali, diciamo che non si chiamavano quelli centri sociali, ma erano delle esperienze di autogestione che prendevano spunto da quello che era successo negli anni 70, però con modalità totalmente nuove e soprattutto legate al mondo della musica e al suo immaginario. Spesso in Italia, come è successo a Bari, anche in altre città, la scena reggae trova in quella punk molte similitudini e spesso occasioni di cooperazione e di muoversi negli stessi canali. Qui vedete appunto il discorso sempre della grafica analogica, non esisteva ancora il computer, anche in questo caso, esisteva il fotomontaggio, i ritagli, la colla, i trasferibili, la macchina da scrivere, i penarelli. Passa un decennio, negli anni 90, si sviluppa invece un fenomeno totalmente nuovo, una nuova fase nella controcultura, nell'antagonismo. Nascono fenomeni come il movimento della pantera fra gli universitari, nascono nuovi centri sociali, nuovi centri sociali molto legati dal punto di vista ideologico e dell'immaginario a quello che è successo negli anni 70, quindi molto radicalizzati, molto ideologizzati, però con delle nuove modalità, nuove modalità in cui trova molto spazio la musica come fonte espressiva, non più solo il punk, ma a Bologna e a Roma nascono queste esperienze di hip hop, dell'uso del rap, che viene individuato come probabilmente è stato il modo più semplice, ancora più del punk, di utilizzare la musica come strumento espressivo per veicolare la propria vita, i messaggi sociali, politici, ma anche il proprio modo di essere. Assieme all'hip hop, anche il reggae, che allora si chiamava ragamuffin, anche prima si chiamava ragamuffin, però in Italia prende piede con questa terminologia, in particolare colpisce molto l'immaginario dei ragazzi la parola posse, che viene usata appunto da Onda Rossa posse, da Isola posse, all Star, da 99 posse, tant'è che poi i giornalisti dei media ufficiali che dovranno necessariamente fare i conti con questa realtà che era molto più, aveva una dimensione molto più grossa rispetto alla scena reggae dell'ennio 80, che era più di circoli ristretti di appassionati, non stanno bene come descriverla, cominciano a usare il termine musica posse. E qua abbiamo un esponente proprio di quel periodo. Io ce l'ho quel disco. E questi ce li hai? Queste fanzine? Perché me li hai date tu. A Bari continuiamo, non perdiamo il vizio di fare fanzine per comunicare. Questa storica. Perché internet ancora non c'era, quindi continua ad essere quello della fanzine distribuita nei banchetti, ai concerti, nel nuovo circuito dei centri sociali il mezzo più efficace per mettere in relazione le persone per comunicare, per supplire alla carenza di informazione che continuava ad esserci. Perché c'era questa scena in cui si parlava finalmente sui giornali di reggae, di ragamuffin e di pop. Però appunto il reggae era il ragamuffin. Punto. Il ragamuffin. cercava di far conoscere in maniera più approfondita il reggae dicendo sì, non c'è solo il ragamuffin, c'è anche per esempio il nuovo DAB in Inghilterra, in UK, che proprio in quegli anni veniva fuori in maniera prepotente e necessitava di essere comunicato anche in Italia perché continuava ad esserci questo grosso gap nelle informazioni. Durante gli anni 90 e primi 2000 ci sono dei nuovi tentativi di editoria di arrivare in edicola con queste forme di cultura. Questa è un'esperienza di AL molto importante per la scena hip hop porta nell'edicole per molti anni tutto quello che succedeva nel mondo dell'hip hop però in maniera molto centrata sull'hip hop con pochissimo spazio per il reggae ma un'esperienza assolutamente seminale e importante. Sono proprio questi decenni sono quelli in cui avviene una vera e propria rivoluzione una vera e propria rivoluzione nelle forme della comunicazione perché passiamo dall'analogico a digitale questo è un cambiamento enorme veramente epocale fino ad allora per esempio negli anni 80 non esistevano i cellulari esisteva soltanto il fax quindi il fatto di poter comunicare in questa maniera andava rapidamente cambiando le modalità della comunicazione Vibes insieme a Piertosi che ci raggiungerà domani comincia a portare l'esperienza della fanzina anche sul web ed è diciamo l'inizio di un percorso che poi sarà affrontato da altri in tante altre forme negli anni 2000 c'è c'è un'altra esperienza quella di Superfly che è veramente stata una rivista fantastica che è arrivata anche in edicola però è durata poco perché perché con l'affermarsi del digitale comincia il lungo percorso della crisi continua dell'economica dell'industria creativa perché la rivoluzione digitale ha significato anche il fenomeno delle copie pirata dei cd della riproduzione illimitata di tutti i supporti della comunicazione il download illegale lo streaming lo scambio dei file e poi alla fine è arrivato poi nel primo decennio del 2000 la recessione economica che ha portato l'editoria in ginocchio e quindi diciamo è un mutamento del mercato che stiamo vivendo ancora in questo momento con degli sviluppi assolutamente imprevedibili però appunto esperienze editoriali come quella di Superfly che sono di estrema qualità però di nicchia non sono riuscite a resistere diciamo che possiamo dire come conclusione che la black music in generale in Italia o il reggae l'hip hop non sono mai riuscite ad avere pari dignità con il rock nel mercato dell'informazione però intanto è proprio l'editoria stessa e l'industria musicale stessa in generale che è in crisi e quindi in queste situazioni di crisi gente come noi che è abituata ad arrangiarsi probabilmente può trovare nuove opportunità per fotografare meglio quello che è la crisi dell'editoria vediamo questi dati che ho trovato su facebook da direttore del Mucchio Selvaggio sulle vendite delle riviste musicali in Italia negli anni 70 cioè 2001 che era una rivista abbastanza commerciale che però parlava anche di un po' di musica alternativa di rock eccetera vendeva 100.000 copie alla settimana negli anni 80 il Mucchio Selvaggio che era la rivista di riferimento per il rock vendeva 30.000 copie al mese Rockstar di cui abbiamo parlato prima 80.000 al mese oggi XL di Repubblica che è assolutamente il fenomeno più grosso di riferimento per quanto riguarda l'editoria musicale viaggia tra diciamo punte massime di 50.000 copie al mese mensile mentre Rolling Stone siamo sulle 20.000 per poi precipitare giù in queste riviste per esempio Selvaggio che vendeva 30.000 copie negli anni 80 ora arriva massimo 4.000 per poi arrivare a Roccherilla che era un'altra grossa rivista dell'epoca che sopravvive sulle 1.500 copie mensili quindi sono sicuramente digitale l'ambito in cui viene soddisfatta maggiormente l'esigenza di informazioni di chi ha ancora voglia di informarsi in una situazione in cui quelli che si vivono dal di dentro le cose hanno l'opportunità di giocarsene alla pari con l'industria discografica e quindi sono YouTube Facebook SoundCloud i terreni in cui gli artisti le band i producer possono direttamente coltivare i loro skills le loro abilità per promuoversi e senza grossi senza i grossi investimenti economici del passato se studiano in maniera appropriata questi strumenti possono avere dei buoni risultati nel comunicare questo diciamo domani probabilmente si parlerà di più di web di nuove forme di comunicazione perché c'è proprio una conferenza dedicata a sto punto diciamo ho esaurito il rapido percorso nel rapporto fra i reggae media vi racconto un po' di cose sul mercato sui concerti sui concerti del reggae quindi in generale sul mercato dei live in Italia qui vediamo una bella immagine per me che sono stato l'organizzatore di questo concerto del concerto di Alborossi nel 2011 all'agosto dopo al sole qui vediamo un sacco di gente ed è sicuramente stata una una bella cosa per gli organizzatori però quello di cui voglio parlare ora è invece di voglio parlare essenzialmente di crisi perché tutta l'industria dei concerti è in questo momento da ormai da almeno cinque anni in una fase di profonda crisi nel 2013 si è uscito è uscito un articolo su Repubblica in cui si vedevano i dati degli incassi e stranamente dopo anni e anni di flessioni si è registrato un aumento degli incassi delle vendite al bottiglino dei concerti del live in Italia in realtà se andiamo a vedere in maniera più approfondita poi Asso Musica associazione di cui la mia società Best Culture fa parte ha fatto un'analisi un po' più approfondita e non è proprio così cioè l'aumento degli incassi non vuol dire l'aumento dei guadagni perché poi tu devi fare i conti con i costi e poi effettivamente c'è stata più gente che è andata a vedere i concerti però questo aumento è andando a vedere poi i propri dati reali è circoscritto nei grossissimi eventi perché c'è stata una grossa concentrazione quest'estate di eventi con superstar internazionali da Bruce Springsteen e molti altri concentrati tutti nello stesso periodo che hanno diciamo cannibalizzato un po' le risorse degli utenti che in un momento di crisi vanno a colpo sicuro dove c'è la cosa imperdibile in realtà c'è una profonda sofferenza poi in tutto l'ambito medio e medio-basso dell'industria live che poi è quello che più interessa il reg in realtà parlando di reg per il mercato del reg nei live la crisi non è neanche una novità non è cominciata nel 2010 come è successo per tutta l'industria ma è cominciata un po' prima è cominciata un po' prima perché dai 90 in poi è stato un crescendo continuo c'è un sacco di gente si è entusiasmata su questa cosa del reg in Italia perché abbiamo avuto prima la musica poster la nascita del reg italiano quindi Africa United Sun Sun System e altri che hanno conosciuto uno sviluppo continuo e anche molto grosso perché gli Africa sono arrivati a livelli alti nella scena musicale italiana poi è cresciuto il fenomeno del Rotatom da essere una piccola raduna di appassionati è diventato il più grosso festival italiano e uno dei più grossi in Europa poi c'è stato sempre nei 90 primi 2000 il fenomeno dei Sun System il moltiplicarsi degli spazi autogestiti soprattutto a Roma e a Milano che hanno significato hanno fatto molto per avvicinare sempre più gente alla cultura del reg poi sono cominciati nei primi anni 2000 i tour degli artisti giameccani in Italia in maniera sempre più frequente sono emersi nuove agenzie nuovi promoter fra cui anche noi di Bascaccia siamo nati in quel periodo e artisti come Luciano Morganer di Celentonibì hanno fatto frequenti tour in Italia poi c'è stato la crescita del fenomeno dell'estate nel Salento da essere un fenomeno di nicchia nel primo periodo delle posse è diventato un fenomeno di turismo di massa quindi è cresciuto è potuto crescere un fenomeno come il gusto dopo al sole nella nuova forma degli anni 2000 e altri grossi festival in Salento poi che è successo che c'è stato e è cominciato un calo proprio del reggae prima della crisi dei concerti almeno questo è quello che tu senti dire in giro dai promoter dai club che programmavano in maniera regolare il reggae in Italia ci sono varie cause che possono aver determinato questo io se ci rifletto ci posso individuare innanzitutto l'essaurimento di una certa curiosità diciamo perché comunque dicevamo prima che la fenomeno come il reggae e la black music hanno sempre faticato ad imporsi a livello di massa in Italia perché c'è proprio un fatto culturale che è difficile approcciare queste culture che sono che nascono come culture molto peculiari etniche e invece in Italia abbiamo una forte tradizione del rock l'abbiamo esaminato prima e quando sono arrivati i primi concerti reggae sicuramente c'è stato un grosso fattore di curiosità che ha attirato molta gente ai concerti che successivamente si è un po' stancata non ha più seguito la situazione anche per dei limiti qualitativi dei live anche perché spesso c'è stata c'è poca professionalità specialmente in molti artisti agenzie giamecani un po' per anche difficoltà burocratiche regativisti eccetera insomma i promoteri hanno incontrato molte difficoltà con il reggae difficoltà aumentate anche per esempio dal dal clima crescente di proibizionismo sulle droghe leggere con la bossi fini le leggi sulle droghe leggere in Italia introdotta nel 2000 poi c'è stato un giro di vite notevole in particolare sugli eventi reggae che sono stati bersagliati da posti di blocco anche sui media ci sono state delle campagne abbastanza negative c'è stato il fenomeno macroscopico del Rototom che dopo anni di persecuzione continua è arrivato a un punto di rottura in cui addirittura il il presidente del Rototom è stato è stato indiziato è stato portato è stato processato per istigazioni nell'uso di droghe leggere quindi un percorso pieno di ostacoli un altro per esempio è quello del tutta la questione legata all'omofobia che esplosa dagli anni 90 in poi però in Italia c'è stato un picco a un certo punto proprio legato al fatto che questa musica era diffusa in ambienti molto policitizzati e molto consapevoli culturalmente per cui erano assolutamente inaccettabili certi aspetti sono partite campagne di boicottaggio eccetera e poi per ultimo ma ugualmente importante il fatto che il target del reg è generalmente squattrinato quindi chi investe il rischio e i propri soldi sul reg deve anche fare i conti col fatto che è difficile guadagnare e recuperare i costi con il pubblico del reg quindi diciamo che io quando sento parlare di queste cose qua questi sono tutti argomenti che gli organizzatori i club eccetera in Italia ti tirano fuori quando si parla del reg e ti dicono è difficile qua non è più possibile eccetera però quello che mi sento di dire io che appunto ho un po' di anni sono praticamente un coetaneo del reg perché ho 50 anni esattamente per la musica reg sono almeno 30 anni che sento parlare di crisi del reg cioè da quando da quando ho cominciato a sentire i primi dischi sì ma il reg è in crisi poi quando è morto il reg è finito quindi invece quello che ho sempre visto a dispetto invece di queste di queste voci di questi pareri di gente del settore è che inspiegabilmente cioè anche io non me lo spiego tanto facilmente vedo sempre un grosso ricambio generazionale cioè io ho visto nei decenni avvicinarsi sempre gente nuova per cui alla fine mi ritrovo ai concerti alle densole eccetera gente che quando io ho cominciato a sentire questa musica non era ancora nata questo è un fatto che è esattamente il contrario della crisi cioè il fatto che un genere musicale riesce ad attirare l'attenzione e la partecipazione attiva e il protagonismo dei giovanissimi è il contrario della crisi cioè un grosso una grossa un grosso potenziale è un segnale molto molto importante quindi posso concludere questa chiacchierata con questa cosa positiva il fatto stesso che siamo qua che c'è questa iniziativa è esattamente il segno che il discorso è ancora aperto e stiamo in una fase non di crisi ma di sviluppo professore davvero mi rispetti allora professore che mi dici ma io due cose e poi dopo sentiamo cosa dicono loro perché io su questa cosa qui lui ha fatto una una ricerca è fatto bene io invece sia oggi che comunque in generale in tutte queste iniziative porrò il mio punto di vista di persona che proprio fa parte di questa industria tentando di farne il prodotto sia che questo prodotto sia i media sia che questo prodotto sia la musica quindi io tenterò di dare un taglio più se si può dire nella nostra musica diciamo tra virgolette di business insomma per cui io non ho una relazione da fare mi appoggio assolutamente a ciò che dice lui e in relazione a queste ultime cose che diceva sul mercato musicale sulla sulla crisi del reggae in Italia concordo pienamente con quello che dice Mimmo però pongo anche come dire l'accento oltre che sulle varie elementi che i promoter fanno e faranno sempre e hanno sempre fatto sulla qualità del prodotto in generale che genera una nuova possibilità per l'industria la qualità del prodotto adesso è decisamente scadente almeno questo è il mio giudizio è decisamente scadente in giamaica è decisamente scadente in Italia in realtà era scadente anche negli anni 90 in termini di produzioni musicali ma era forte di quella vitalità del messaggio di rompente che veniva da quella musica chiamata con un brutto termine musica posse in cui come dire le deficienze stilistiche un po' venivano superate dalla forza dei messaggi per cui andavi a sentire roba tipo stop al panico ed era una roba incredibile adesso non mi sembra che qualitativamente ci siamo da questo punto di vista e quindi c'è un'analisi oltre al proibizionismo oltre ai limiti dell'omofobia oltre a ciò che ha già detto Mimmo secondo me siamo in una fa e su questo poi mi confronto con voi nel senso che per conquistare la gente devi fare musica buona o comunque non necessariamente buona o comunque musica che sia originale che arrivi alle persone anche perché dove fanno musica buona la conquistano la gente in Francia in Germania assolutamente 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 per cui secondo me questo è una variabile importante in relazione alla questione del concerto della musica reggae in una nazione questo sarà un altro dei temi che io affronterò in tutte queste giornate in cui la musica reggae c'entra come il 2 di picche cioè non c'entra nulla qua in Italia il reggae in Inghilterra c'è un'immigrazione giamaicana pari probabilmente alla popolazione giamaicana che vive in giamaica ok nelle altre parti d'Europa c'è una grande immigrazione che ha creato generazioni di persone quindi il reggae fa parte della cultura popolare qui il reggae è Bob Marley e si ferma lì perché Bob Marley ha fatto quel tipo di operazione un'operazione quella di Bob Marley che va studiata perché non è a caso che un artista che viene da un'isola che non conosceva praticamente nessuno che fa una musica che non conosceva praticamente nessuno riempie lo stadio nel concerto più grande della sua vita in Italia a Milano con quell'immagine incredibile cioè allora secondo me noi dovremmo noi intendo tutti colori quali operano nell'industria della musica reggae capire questi cosa hanno fatto e come hanno fatto a far quel tipo di operazione là come ci sono riusciti che cosa c'aveva di particolare questo uomo basso che faceva una musica fatta di quattro accordi e qua c'erano ai tempi quelli che facevano la progressive cioè qua c'era gente che spaccava il culo a suonare c'è gente e quelli che facevano chenck 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 e hanno fatto 90.000 persone allora come hanno fatto in termini di business a portare 90.000 persone dove hanno conquistato i giovani bianchi come ci sono riusciti e come non ci riusciamo ora o ci possiamo riuscire ora io un'idea ce l'ho e la propongo ed è anche un po' quello che provo a fare io quando mi approccio al rapporto con i media che è una delle esperienze della mia vita per anni io ho fatto media radio su radio assolutamente occupate underground a Bologna si chiamava Radio K Centrale storica emittente del movimento che erano gli anni in cui nascevano proprio quelle cose di cui Mimmo ha parlato benissimo per cui non vi tedio su questa cosa qui dalla nascita delle posse a Bologna che è stata comunque un'esperienza meravigliosa quello che mi interessa è tentare di dire e spiegarvi qual è il mio ragionamento e qual è stato il mio ragionamento da lì ad oggi io penso che se vogliamo che questa cosa diventi una cosa di massa e conquisti un mercato se vogliamo che questa cosa non sia autoreferenziale e che non sia il club degli eletti o di colori quali se vogliamo che diciamocelo chiaro ci sia della gente che si campa di questo perché io poi l'altro argomento è quanti si campano di regga in Italia se vogliamo questo dobbiamo continuare dobbiamo conquistare della gente se no a me va benissimo la testimonianza perché a me quel ritmo in levare che ci ha conquistato tantissimi anni fa mi salva la vita tutti i giorni meglio del dottore il problema è quanta gente si potrà dedicare a che la reggae music sia grande mettendoci 15 ore al giorno di lavoro e portandosi il suo stipendio da operaio a casa se non conquistiamo nuova gente se siamo tutti bravi belli e meravigliosi e facciamo la musica nostra super mega e siamo sempre quelli e stiamo sempre nell'ambito di grande grandissimo grandissima esperienza non la cito per dire che è una cattiva esperienza cioè quella di radio popolare intesa come radio popolare italiana dove tutti noi compagni ci ascoltiamo e ci diciamo le cose belle che vogliamo sentirci e ci sentiamo la musica bella che vogliamo sentirci in 400.000 che praticamente è zero da un punto di vista radiofonico nazionale dove andiamo a finire se solo questi sono i nostri media è evidente che tutta la questione di facebook che discuteremo domani quindi non discuto adesso è una risorsa ma non è la risorsa secondo me perché sennò non si spiega perché un prodotto come mi 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 spacca il culo di più di alcune robe bellissime regge fatte in italia o nel mondo perché mi 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 vince e la roba nostra non la sa nessuno, è più bella? Secondo me sì, di certe robe che purtroppo sento sì, devo dire la verità, anche come suoni, però non è quello, è il gioco, è il lavoro che hanno fatto dietro, e come vogliono arrivare alla gente? E a quale gente vogliono arrivare? Io voglio fare la musica per tutti, io voglio far arrivare Dennis Brown a tutti, e qual è il percorso da fare? Io ci provo nel mio piccolissimo, ovvero dalle bellissime, stupende, meravigliose esperienze fatte con DJ Fabri, con il vibra sound dei tempi su Radio K, grazie a Dio dal 2005 sono riuscito a realizzare un sogno, cioè quello di fare su un network commerciale, che è Ciccio Riccio, e sottolino commerciale, io volevo andare proprio al contrario di quello che facevo nel 90, volevo andare proprio là, volevo andare in un posto dove la mia musica funziona se gli faccio vendere dei prodotti, perché vuol dire che io arrivo dal parrucchiere, perché vuol dire che la mia musica sta nel supermercato mentre la signora compra la salsiccia, ogni quarto d'ora mi fermo, va bene, ogni quanto d'ora arrivo a Babilonia e dice di comprare delle robe, bene, per me è bene, poi io lo dico provocatoriamente, se per voi è male ditemelo, per me è bene, per me questo è il futuro se vogliamo averne uno. No, questa è la mia accusa che dico oggi, in più la grande soddisfazione mia è quella di email che vi avrei voluto portare, ma sono meno tecnologico di Mimo che è molto più bravo di me in questo, le grandi soddisfazioni mie sono per esempio una mail che vi cito, signor Ciccio io la devo, la devo ringraziare perché lei mi ha con la sua trasmissione trasmesso le meravigliose e solarie positive cose della musica reggae che io non conoscevo. Io ho vinto, io ho vinto, capito là, per me, per me ho vinto là, perché se Laura gli piace il reggae, gli piace alla sorella di Laura, alla zia, alla cognata, alla signora e diventa una musica di popolo, fino a quando questa musica non è di popolo, non è di nessuno, è il popolo che compra la musica, noi dobbiamo andare a questa gente qua e dobbiamo fare uno dei prodotti di qualità musicali che si confrontano con quelli pop italiani che volenti o nolenti hanno una qualità musicale molto alta, due, dobbiamo o dotarci noi di strutture, ma di questo poi discutiamo nell'ambito delle altre, non voglio anticipare le cose di strutture, no? Per poter comunicarci bene, oppure riuscire a avere la potenzialità di utilizzare le strutture di promozione grandi, italiani. Che significa questo? Avere i soldi. Perché se tu ti approcci a parole dintorni, se non gli fai vedere il tuo conto in banca, manco ti parlano. Però se ti approcci a parole dintorni, stai tranquillo che il tuo disco esce su tutti i giornali italiani, sia esso di reggae, sia esso di musica terribilmente odiosa o altro, solo perché questi hanno un potere. Adesso io dico che la strada è avere dei soldini per andare in quella direzione là, che è la stessa cosa per la quale la mia trasmissione di reggae che entra su un circuito, il secondo più grande al sud Italia, dopo un programma di dediche in cui la fanno da padorone. Franco Califano, Fred Bongusto, e io voglio stare là. Io voglio stare là. Qualcuno probabilmente mi dirà mi fai schifo perché stai là. Io dico, probabilmente tu mi puoi dire che faccio schifo e puoi continuare a fare reggae perché io sto là. Poi tu fai quel cavolo che vuoi, io sto là. E la stessa cosa era, qui mi fermo, la bellissima esperienza della tv del Rototom. è stata un'esperienza meravigliosa per me, da un punto di vista operativo, ecco, perché poi va anche detta che certe volte anche nella nostra industria del reggae ci sono persone serie e alle volte trovi in mezzo persone che si comportano proprio come i caporali a Foggia. Però quello è un altro aspetto della crescita dell'industria. Da un punto di vista, diciamo, culturale, lì è stata una roba meravigliosa. Una tv... Grazie. Una tv che ha portato nelle case... e lì la forza di quella roba lì è stata anche che non volevano essere autoreferente. Lì è stato bellissimo. Perché quel format che si costruiva andava sulle televisioni locali delle persone, andava in Friuli come in Campania, in Sicilia come in Piemonte, gli arrivava a casa della signora, che la signora non sa neanche dove sta di casa internet. Per cui, ricordiamoci anche, quando parliamo anche di nuovi media, ne parleremo, quanta gente in Italia ha accesso a internet? E il mercato è quello? Il mercato per me sono tutti. Quello è il mercato. A me l'università, quello mi hanno insegnato. Il mercato è tutti quelli che possono fruire. Sono potenzialmente i tuoi clienti. Se noi pensiamo solo ad internet, pensiamo a quei 7 milioni su 56 milioni. 10 milioni. Agli altri 46? È mia madre? Perché non gli devo vendere il disco mio? Perché è più scema degli altri. Se il disco è bello, è bello. Se faccio musica, la faccio per tutti. Se parlo di marijuana, parlo di marijuana. Mia madre, le canzoni in cui Bob Marley parla di marijuana, mia madre non è a favore della marijuana, le piacciono. E glielo ho fatto io. Ma se lo sarebbe comprato il disco, eh? Per cui ragazzi, lui è stato molto più bravo di me in termini, però la mia provocazione è se non cresciamo con la testa e usciamo fuori dalle, lo dico se c'è qualcuno che ha la pazienza di ascoltarci anche a casa, se non usciamo fuori dalle ristrettezze mentali che noi abbiamo e dalle incapacità manageriali per cui oltre alla musica buona ci vuole anche gente che sappia come si fa questo lavoro e se ragioniamo su questa musica come un'industria, così come tutte le altre industrie musicali ragionano su se stesse, senza però mai snaturale il contenuto vero di quello che è la musica nostra, quello di cui noi ci siamo innamorati, ma rendendolo attuale per le nuove generazioni, probabilmente avremo un futuro e probabilmente sarà la direzione che porterà ad un altro concerto di un altro grande artista italiano, me lo spero, o internazionale di 150.000 persone al San Siro fra quattro anni. Ci sono interventi, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa al riguardo? Ciao, è aperto. Due considerazioni volevo fare rispetto al discorso del percorso storico che c'è stato per la diffusione del regno in Italia. Se facciamo caso, comunque negli anni Ottanta ci sta San Siro... Tu la senti a lei? Poco, sì, però... Ti sento. No, è che sta... il volume... Ti sento? Un, due, tre, prova. Grazie, sì. Negli anni Ottanta c'è stata a San Siro tutta quella gente, negli anni Novanta ci sono state le posse, c'era comunque una situazione sociale di circolazione della cultura che a mio avviso adesso non c'è. E nello specifico la black music, soprattutto il regno come anche l'hip hop, si scontrano con tantissime limitazioni, che non è soltanto la Bossi Fini, è anche l'ampedusa, è anche la questione che sono islamici, e sono tutte cose che la nostra situazione sociale italiana in questo momento non supportano. Questo per collegarmi poi. Il regno è arrivato in Europa col punk. Il punk era anarchico. Il legame che c'era tra il reggae e il punk vent'anni fa, se parli con i rockettari ora, non neanche lo sanno che il reggae è arrivato in Europa, a Londra col punk, e che il dubstep deriva dal dub. Cioè sono cose che loro rifiutano a muzzo, si dice dalle parti mie. Perché quando sentono il reggae per loro è la black music, che vuol dire anche giamaicani che badano alla gangster. Ed è molto lontano dal messaggio di bombare del reggae. Che è normale che si stauri meglio in Italia come reggae nel momento in cui il nero è comunque ufficialmente un nemico, perché è così. Quindi questo, cioè, io volevo chiedervi se voi vedete la possibilità di lavorare con il reggae come genere anche legato ad altri generi. Come può essere un festival, come avviene in Francia o in Germania, dove il reggae è di qualità, perché lo suonano su palchi di musicisti rock di qualità. E quindi hanno lo stesso infrastruttura. Una domanda? Professor? Assolutamente sì. Del resto il reggae è una musica bastarda, già di per sé, perché nasce dall'incrocio di diversi generi musicali. E poi è stata una musica prolifica, nel senso che ha generato poi tanti altri generi musicali. Quindi è assolutamente naturale creare dei percorsi di fruizione che non siano chiusi a riccio. Sì, sicuramente è una strada quella di cercare di aprirsi il più possibile. È una strada che noi abbiamo cercato anche di percorrere, per esempio in alcune edizioni di Gusto dopo la Sole, ma in altri festival che organizza Bass Culture. Ma non solo dal punto di vista del live, anche dal punto di vista delle fanzine, dei blog. Cioè comunque già si fa difficoltà, e lo dico con un po' di coniezioni di causa, a mettere a rete il reggae in Italia. Quando poi cominci anche ad alzare il telefono, sono tutti prestati, cioè sono tutti pronti, però in realtà poi un po' per la distanza, un po' per il campanilismo che è proprio nostro, culturalmente come italiani, non come ascoltatori di reggae, di rock, di punk. Cioè dovremmo forse cercare verso, in quel senso, una diffusione? Sì, anche perché secondo me è molto importante che la musica reggae venga fruita e percepita come fenomeno culturale, in generale, non soltanto come musica, no? A me assolutamente mi va benissimo ed è importantissimo che arrivi prima il messaggio musicale. Semplicemente il ritmo, il suono, anche se non capisci le parole, no? Perché io quando sentivo l'Into QC Johnson le prime volte non capivo una parola di quello che diceva, però percepivo qualcosa, no? Di molto simile a quello che era veramente. Così come probabilmente la signora di 75 anni non capisce che si sta parlando di ganja, però gli arriva qualcosa che va oltre anche il fatto del ritmo, della musica bella. Così come in tante occasioni ho avuto esperienze di gente che istintivamente sente subito il ritmo, il suono, eccetera, anche se non te lo sa spiegare, però appunto perché poi rimanga, appunto proprio perché è difficile nel nostro paese, non fa parte proprio della nostra cultura, perché rimanga poi qualcosa che generi un seme, che generi poi il resto, così come è successo con il movimento delle posse nei primi anni 90, è assolutamente importante che ci siano degli ambiti in cui si possa sviluppare il discorso culturale in generale. E quindi per esempio in Italia è diventato il reggae giameicano strumento per messaggi tutt'altro che giameicani, tutt'altro che però affini di ribellione sociale, di critica al sistema del capitalismo, quindi ci sono sicuramente delle affinità e secondo me è molto importante, ecco perché ritengo che sia cruciale, oltre alla diffusione negli ambiti pop, commerciali, eccetera, assolutamente da cui non si può prescindere, lo sviluppo di situazioni più autogestite dal basso, in cui si possa parlare non solo di musica, ma di antirazzismo, di convivenza pacifica fra la gente, ma anche di religione, perché no? No, no, proprio, soprattutto la religione è una cosa di cui non abbiamo parlato per niente, però è un aspetto importante del reggae. Nella società attuale è assolutamente cruciale, perché noi vediamo che per la religione ci sono le guerre, la gente si ammazza, e quindi è anche importante parlare di religione in maniera più appropriata e più consona a quello che dovrebbe essere, parlare di Dio, dei messaggi anche che vengono veicolati dalle Sacre Scritture, però in maniera anche più laica, diciamo, più... assolutamente sono d'accordo con te. Anche lì in bocca al lupo in Italia, eh? Eh? Anche lì in bocca al lupo in Italia. Eh sì, sì, là stiamo proprio su un terrino... Io volevo... ciao a tutti, volevo rispondere alla provocazione, mi sentite? Alla provocazione di Ciccio. È detto che è il popolo che compra la musica, io non sono tanto tanto d'accordo, perché secondo me comprano forse di più i teenager, più, diciamo, appunto gli adolescenti comprono più la musica. Io per esempio ne compro ma non tanta quanto ne compravo per esempio qualche anno fa, proprio per la crisi, non lo so, senza lavoro, almeno tirocinanti, eccetera. Quindi alla provocazione sulla musica vende, quale musica vende? Riferito anche al reggae, vende la musica frivola, la musica leggera, ti faccio un esempio, Luna Pop, ti faccio l'esempio di Alex Britti, che è sceso a un compromesso con delle canzonette da Sanremo, però lui comunque è un grande chitarrista, blues, sì sicuramente. Chitarrista. E volevo, proprio questa è la mia provocazione, non è che il reggae ha forse un messaggio un po' più alto, culturalmente, intellettualmente, che non riesce a vendere quanto potrebbe vendere? Io penso innanzitutto che la musica abbia un messaggio connaturato in se stesso in quanto musica, per cui c'è la musica bella che a me fa stare bene e, certo, se non è intrisa di omofobia o di pedofilia, o di, eh, se la musica è bella, è bella, ci sono dei pezzi dance che a me mi divertono e mi cambiano la vita, per dirti, come anche dei pezzi rock, piuttosto che delle robe interessanti. Quindi per me la musica, io non la giudico in virtù del messaggio, perché è un modo cantautoriale di giudicare la musica. Ma come prodotto proprio. Ma come prodotto musicale in se stesso. Quindi questa è la prima cosa che dico. E concordo con te su questo, è evidente che il reggae è un messaggio più alto. Io ovviamente sto facendo un ragionamento sull'industria del reggae in generale, non solo sull'industria del roots and culture, perché è evidente che qui dovremmo considerare tutto ciò che è il reggae, essendo già così piccolo l'ambito, se ci mettiamo dentro tutto, capito, dal dabba alla denso, capito. Quindi questa è la prima cosa. Per cui sì, d'accordo, ma attenzione a non diventare dei cantautori italiani anni 70, perché lì si valutava di più la poesia che aveva scritto che non la musica. Invece io metto nella mia idea sempre avanti la musica. Per cui una canzone d'amore certe volte riesce a darmi di più di una canzone che prova a dire delle cose bellissime, anche sociali, però a me mi piace di più la canzone d'amore. E mi sento quello. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, e chiedo scusa perché ho sbagliato, ho parlato di vendite. Non parlo di vendite, io penso di raggiungere. Perché oramai di vendite, e qua parla il produttore Ciccio, però non sarei in vesti di produttore. Delle vendite non faccio mica la musica per venderla più. Ma non penso che neanche Madonna faccia la musica per vendere i dischi adesso. Perché a fronte di 500 copie vendute mie, o 500.000 copie vendute di Madonna, è evidente che per far uscire il disco di Madonna, il produttore di Madonna ha speso 500 milioni di euro. E quindi quelle 500.000 copie non gli riportano neanche il 50% dei soldi che ci hanno messo. Per cui nessuno più fa i dischi per vendere. Ho sbagliato io? Io dico, la musica deve arrivare alla gente. E per me arriva anche se se la scarica illegalmente. Io continuo a essere molto punk da questo punto di vista. È evidente che tutto il business di coloro i quali fanno musica oramai si concentra solo e soltanto sul live. Per cui parlo di arrivare alle persone e, sì, mi hai capito bene, voglio arrivare alle persone nel 2013, voglio capire le persone nel 2013 cosa ascoltano, voglio fare il reggae del 2013. Adesso poi forse questa non è la conferenza, perché se no ci entriamo tutti nell'ambito delle produzioni, dei suoni e delle robe, però io vorrei far quello, non facendo gli 883 del reggae, facendo il reggae, però se probabilmente negli anni 90 certe cose andavano comunicate in un modo, adesso non si devono più fare in quel modo, là si devono fare in un altro modo. Quale? Partendo dall'analisi di quello che sente il popolo. Però c'è stato un tentativo, faccio un esempio, Ananzi, Ananzi è andata a Sanremo, ha fatto una canzone, la canzone è carina, anche con un messaggio d'amore, il sole, eccetera, però comunque l'hanno bloccato, nel senso Sanremo è stato escluso, forse c'è anche proprio un pregiudizio. No, è andato a Sanremo. No, sì, poi non ha vinto, diciamo, non ha, alla prima è uscito. Ascolta, io no, Ananzi, io guarda, quando lo ascoltavo non avevo una grande idea, invece poi l'ho visto di persona, abbiamo fatto una bella cosa insieme, live, per me è un artista completo, è un bravissimo artista. No, ma non criticavo lui, criticavo, secondo te non c'è un blocco proprio culturale che possa, appunto, non fa andare avanti la musica reggae a livello commerciale, diciamo? Il blocco culturale l'ho messo come pietra miliare del mio discorso, ho detto, la prima cosa che ho detto iniziando a parlare è che il reggae in Italia c'entra come il 2 di picche, non c'entra niente, non ha nessuna relazione, neanche la taranta, per me, eppure discutiamo altri giorni quando arriveranno gli esponenti di gente che invece la pensa diversa da me. Io non la penso così, il reggae non c'entra niente, è una musica dalla quale noi ci siamo innamorati, io e te potremmo anche esserci innamorati della musica del Caucaso o della Mongolia, è la stessa incidenza, l'unica differenza è che c'è stato Bob Marley che ha davvero portato lì dei 16 reggae, la sanno tutti, però è Bob Marley, e tu da lì in poi non sa più niente nessuno. Io intendo della massa, perché di noi ovviamente siamo noi, capito? Grazie. No, grazie a te. Va bene, voglio dire qualcosa, Felice? Il gioco della bottiglia. Va bene, allora io intanto volevo fare una mia riflessione rispetto a quello che si è detto, a me così mi è venuto da pensare che tutto sommato uno dei messaggi del reggae è proprio quello di come dire, cercare di andare oltre la dipendenza dalle cose di Babilonia, quindi per esempio la moneta, però è pur vero che per organizzare i grossi festival, almeno da un punto di vista teorico, però per organizzare i grossi festival e delle grosse cose sono necessarie queste risorse, quindi forse una buona, come dire, in qualche modo mediazione tra quello che abbiamo detto oggi, mi domando, potrebbe essere quello di pensare a un genere musicale che ha bisogno di un business per poter sopravvivere e per poter comunque sia dire la sua, per poter lanciare i suoi messaggi, in questo senso, secondo me c'è bisogno di una specializzazione, anche da un punto di vista, lasciatemi passare il termine, professionale, proprio perché in questo modo si garantisce intanto una completezza della filiera e grazie a Dio abbiamo visto che in questo movimento musicale, pur di nicchia, c'è questo perché parte dalla diffusione, dalla promozione, ma fino al giornalismo, organizzazione eventi, ognuno si dedica a un settore specifico, quindi io penso che possa sussistere un business che serva essenzialmente a coprire i costi che servono per organizzare queste belle cose, in tutto questo se poi c'è qualcuno che riesce anche a ritagliarsi uno spazio perché succede anche per quanto riguarda i servizi sociali o altro tipo, quindi visto che ci dedica 8-10 ore al giorno, se riesce a ritagliarsi un suo stipendio, io non ci vedo assolutamente nulla di male, anzi vedo un progresso e in questo senso è una marcia in più e quindi non vedo un ostacolo in questo. Detto questo, per il momento direi che per questa sessione abbiamo finito perché è arrivato con noi direttamente da Seattle, Clinton Fioron, per cui se vogliamo andare a conoscerlo, io direi che nel frattempo possiamo scioglierci i 5 minuti di pausa prima di ricominciare. Grazie.